Buongiorno a tutti e benvenuti all'ultima lezione del corso nel quale, come già noto, risolviamo questa prova d'esame di settembre dell'anno scorso. Si tratta appunto di un altro esercizio che lavora sul dataset sulla piramide dei cibi, ma ovviamente lo fa in modo diverso rispetto all'esercizio precedente. Allora, proviamo a dare un'occhiata anche qui al testo. Si definisce il tipo di porzione, il nome è segnata una porzione, è identificata dal campo Portion Display Name della tabella Portion. Due tipi di porzione, per esempio, sono Cup e Sandwich. Si noti che esistono molteplici porzioni, Portion ID, nel database per ogni tipo di porzione. Ad esempio ci sono 445 diverse porzioni che siano di tipo Cup. Andiamo a leggere fino al punto C, poi andiamo a capire nel database di che cosa stiamo parlando. Si permette all'utente di inserire un valore numerico intero C nella casella calorie, quindi che abbiamo qua, e alla pressione del testo analisi si costruisca un grafo semplice, pesato, non orientato, i cui vertici rappresentino tutti i tipi distinti di porzione, per cui esista almeno, e questa è una clausola importante, almeno una porzione, un Portion ID, le cui calorie siano inferiori al valore C specificato. Allora, di cosa sta parlando questo testo? Andiamo a prendere il database nella tabella Portion. Tabella Portion, abbiamo un Portion ID, abbiamo un Portion Display Name, che sono i nomi che vogliamo selezionare, e come vedete il Display Name molto spesso è ripetuto, qui facciamo l'esempio di Cup che compare più volte. La stessa nome di porzione, quindi Cup, può essere associata, come ci dice il testo, chiaramente a Portion ID diversi, che abbiano un numero di calorie anche diverso tra di loro. Allora, il numero di calorie lo troviamo nelle nostre tabelle, dunque da qua, calories qua in fondo, quasi verso la fine della tabella. Quindi, pur rimanendo fermo il nome della porzione, ad esempio Cup, questo in realtà porterà con sé molti diversi tipi di Portion ID, e ciascuno di quali avrà un suo tipo di calorie. Ciò che dobbiamo fare noi è selezionare l'insieme di Display Name, per i quali il numero di calorie corrispondenti sia, ci dice il testo, minore di una certa costante C specificata. Quindi la prima operazione che dovremmo fare sarà riuscire a trovare quali sono questi tipi distinti di porzione, andando semplicemente a interrogare la tabella Portion. Allora, apriamo una Query, proviamo a vedere innanzitutto quali sono i nomi di porzioni, dalla tabella Portion, andiamo a prendere i Display Name che sono richiesti, e andiamo a prenderli distinti tra di loro, Distinct, Portion Display Name. Quindi, eseguendo questa Query, ah, c'è di nuovo il problema di Portion che aveva messo, tra virgolette, per non essere confuso con una parola chiave, Distinct, magari ci mettiamo anche una C, e prima o poi Distinct, riusciremo a scrivere una Query sinteticamente corretta. Ok, in questo caso abbiamo ottenuto 714 diverse porzioni, nomi di porzioni, tutte diverse tra di loro. Queste sono tutte. Noi dobbiamo selezionare solamente quelle in cui il numero di calorie, calories, sia minore, leggiamo bene il testo, inferiori al valore C, quindi minore, non minore, uguale, è un valore specificato, non so, possiamo dire 100. Allora, se è così, e rieseguo la Query, da 714 righe, ne abbiamo solamente più 355. Magari facciamo una cosa carina, e li mettiamo in ordine alfabetico. Portion Display Name. Quindi questo è l'elenco delle porzioni che hanno un numero di calorie minore di 100. e chiaramente, man mano che io riduco questo valore, quindi più è piccolo il valore di C, minore sarà il numero di porzioni che sono compatibili con questo vincolo. Quindi se sono 217, scendo 139, vediamo un po', se scendo sotto i 10, ne ho ancora 57, e chiaramente il tipo di porzione saranno diversi, saranno inferiori. ok, quindi sappiamo che fino a 100 possiamo, fino a 10 possiamo spingerci tranquillamente, ci sono ancora alcune decine di cibi compatibili. Questa Query è quella che ci servirà per costruire il grafo, perché il grafo ha i vertici rappresentati esattamente dei tipi di porzione le cui calorie siano inferiori a C. Quindi essenzialmente questo elenco di questa Query mi dà esattamente i vertici del grafo. Poi bisognerà costruire chiaramente gli archi, ma possiamo cominciare già a implementare i primi punti dell'esercizio leggendo il valore delle calorie e col tasto analisi creando almeno la prima parte del grafo, cioè i vertici. Allora, poi passiamo al codice, quindi io qua ho il progetto base che era stato consegnato in quell'appello, e andiamo un po' a vedere qui c'era già una classe Portion, però non è quella che ci serve, direi, perché io non prenderei come vertice del grafo questa classe Portion, perché questa Portion, come vediamo, è una classe che si basa sul Portion ID, quindi la singola riga della tabella. Noi in realtà possiamo avere tante, l'abbiamo visto nell'Aquiri, tante Portion diverse che abbiano lo stesso display name, quindi se io usassi questa classe Portion non farai la cosa giusta perché rischierei di avere tante Portion diverse quando in realtà per me il display name è uno solo e quindi deve contare un solo vertice del grafo. Quindi questo è un caso un po' particolare in cui l'unica informazione che mi serve per costruire il grafo è solamente il display name. Poi se voglio leggermi le Portion e memorizzarle separatamente questo è un altro discorso ma ai fini della creazione del grafo io direi che mi basta solamente il display name, non mi servono altre informazioni. Questo display name significa che o creo un oggetto che contiene solamente il display name oppure in questo caso è talmente semplice che potrei decidere di usare direttamente un grafo che contenga delle stringhe al suo interno come tipo di vertice. Quindi possiamo partire creando un grafo il cui il vertice sia semplicemente una stringa proprio perché non abbiamo un oggetto che in modo univoco rappresenti l'informazione del vertice stesso. Quindi nel nostro model possiamo predisporci per definire una classe grafo che private graph e graph lo andiamo a prendere già i graph t ovviamente il cui tipo di vertice sia semplicemente una stringa e il tipo di arco dunque andiamo a leggere il testo ci dice che il grafo deve essere semplice pesato non orientato pesato quindi default weighted edge default weighted edge graph quindi questo è il tipo di dato che ci serve rappresentare a questo punto possiamo definire una funzione scusata public per creare il grafo che ovviamente dovrà basarsi sul valore di calorie il valore di calorie è un valore c specificato un valore numerico intero allora anche se noi nel database sappiamo che le calorie sono un numero che viene a volte rappresentato come valore frazionario l'interfaccia si dice che invece c deve essere un numero intero ok quindi il metodo crea grafo riceve c e poi creerà il grafo ovviamente sulla base di ciò che ha ottenuto quindi quindi riceverà un intero che sarebbe il valore c che arriverà dall'interfaccia utente e sulla base di questo deve creare il nostro grafo crea grafo quindi dovrà basarsi su una query che il nostro DAO farà esattamente quella che abbiamo tentato prima in modo interattivo quindi apriamo il foodDAO e aggiungiamo magari in testa un nuovo metodo che sarà una lista a questo punto di stringa perché abbiamo deciso che semplicemente lo rappresentiamo come stringe semplici il nostro grafo nelle stesse stringe possiamo get portion come si chiama portion name è vero portion display name portion display names int c sempre come parametro che dipende da quel parametro c e questo lo usiamo per eseguire l'interrogazione SQL corrispondente a quella che abbiamo testato prima interattivamente che è questa quindi copia di qua incolliamo in Eclipse e mettiamo a posto come al solito gli spazi di capo e al posto della costante centro chiaramente mettiamo il parametro ok a questo punto abbiamo sempre le solite righe di JDBC da implementare quindi apriamo la connessione uguale dbconnect punto get connection ha avuto la connessione creiamo lo statement preparer preparer statement uguale prepare non prepare cosa preparer statement qua a cui passo questa stringa sequela che abbiamo definito prima ovviamente tutto questo va dentro un try catch oramai lo sappiamo metto qui dentro da comodità ricordo di chiudere la connessione ok a questo punto lo statement va impostato col numero di calorie specificato dal parametro c quindi st punto set un parametro di tipo intero al primo posto del valore c che ho ricevuto e a questo punto posso eseguire result set eseguire la query execute query avuto questo result set posso generare e restituire il risultato il risultato sarà una lista di stringhe una nuova array list array list ok di stringhe e per ogni risultato della riga while result punto next semplicemente aggiungiamo alla lista add result punto get string della colonna che si chiama portion display name e questo ci dovrebbe permettere semplicemente di restituire dopo aver chiuso la connessione ovviamente il risultato in caso di qualche problema di qualche eccezione possiamo ritornare null così generiamo un problema al model che dovrà gestirlo questo è il metodo del DAO che abbiamo creato essenzialmente essenzialmente per eseguire questa query che riceve appunto in ingresso il parametro soglia e genera uscita la lista di questa lista di portion display name sotto forma di stringhe fatto questo torniamo nel model e usiamo questo metodo quindi il nostro creagrafo come prima cosa dovrà istanziare un foodDAO new foodDAO e creare una lista di vertici che sono del grafo semplicemente prendendo DAO punto get portion display names col parametro c che abbiamo specificato list ma importato dal java.util e siamo posti questi sono i nostri vertici che arrivano dalla prima query allora a questo punto siamo pronti per creare il grafo che sarà un nuovo grafo semplice pesato e non orientato ce l'abbiamo scritto qui quindi sarà new simple weighted graph se non sbaglio simple weighted graph pesato quindi default weighted edge default weighted edge punto class come parametro del costruttore e a questo grafo semplicemente aggiungiamo questi vertici this punto eh scusa graphs punto graphs preso da org.jgrapht punto add all vertices al grafo this punto graph graph i vertici che sono i vertici del grafo che abbiamo appena creato e ovviamente questo non è finito non è il grafo completo perché mancheranno poi ancora gli archi però possiamo cominciare a testare questa prima parte di programma come sempre adottiamo la regola che scriviamo qualche riga di codice e la testiamo subito allora per proprio banalmente out punto print line stampiamo il grafo tanto non sarà poi ovviamente questa stampa toglieremo perché sarà troppo verbosa e ci manca semplicemente il richiamo del metodo crea grafo all'interno del controller quindi mi sposto su di un livello e entro nel controller do una rapida occhiata qui nel progetto base il modello era già stato definito all'interno del controller c'era già definito un metodo set model e questo metodo set model andiamo all'entry point era già stato richiamato all'interno dell'entry point quindi queste cose fortunatamente erano già pronte per me nel progetto base altrimenti le avrei dovute fare a mano quindi verifichiamo sempre che il modello sia collegato nel controller altrimenti lavoriamo vuoto e sulla prima azione dell'utente noi abbiamo questo bottone che si chiamava analisi button analisi al quale è associata un evento un'azione che sarà probabilmente l'azione crea grafo per sicurezza dovremo andarlo a vedere nell'fxml per vedere qual è l'event handler la funzione che abbiamo associato al bottone analisi che è quello che ci interessa il bottone analisi è questo l'ho selezionato vado su code e mi dice che effettivamente il button analisi chiama il metodo do crea grafo quindi questo è il metodo che dobbiamo implementare nel controller nel controller crea grafo cosa farà innanzitutto deve estrarre il valore di c e quindi prenderà prima di tutto lo estrargo come string c c come string chiamiamolo cs lo prendo dal campo di testo che si chiama calorie guardiamo l'fxml è questo campo di testo che si chiama calorie txt calorie get text e poi da qua ovviamente cerchiamo di stare il numero intero cerchiamo di estrarre integer no devo però definirlo fuori scusate perché mi serve dopo integer c c uguale integer punto pars int dc come stringa catch number from exception exception ex nel caso in cui ci sia un'eccezione chiaramente il numero non era l'utente non aveva scritto un numero corretto e quindi stampiamo messaggio txt result punto append text di errore il valore cs non è un valido numero intero a capo ok e poi chiaramente interrompiamo return l'esecuzione di questo event ender perché non c'è più nulla da fare quindi da qui in poi il valore c è corretto quindi potrò chiamare il model per creare il grafo model punto crea grafo con c proviamo a questo punto dovremmo avere la catena completa proviamo ad eseguirla mi era da solo mettere la password di accesso al database perché ce l'ho diversa e possiamo eseguire la prima parte del programma quindi vado in run sul main scrivo se clicco analisi mi dirà che il valore non è un valido numero intero vabbè qui dovrei verificare prima che non sia vuoto ma l'importante è non avere delle eccezioni provo a scrivere 100 clicco su analisi e lui mi creerà un grafo di cui abbiamo a questo punto vediamo ovviamente solamente i vertici indicati qua in console e per ora gli archi non ci sono però qui direi che la prima parte la creazione dei vertici l'abbiamo fatta allora prima di dimenticarmelo facciamo un piccolo commit vado su un branch che chiamo soluzione e faccio un primo piccolo commit di questa parte di codice dentro il branch soluzione creazione dei vertici del grafo così se succedesse qualcosa comunque ce l'ho nella storia il codice fino a questo punto adesso ci occupiamo quindi della creazione abbiamo creato i vertici dobbiamo creare gli archi e nel punto e anche diciamo così predisporre il contenuto di questa tendina tipo di porzione predisporre il contenuto di questa tendina conviene farlo subito non appena abbiamo creato il grafo abbiamo l'informazione su quali siano i vertici e quindi possiamo popolare la tendina io quindi questo lo farai subito prima di passare alla creazione degli archi se no poi ce lo dimentichiamo quindi questo però significa che il controller deve poter conoscere quali sono i vertici del grafo e quindi al modello dovremmo aggiungere un metodo per rendere pubblici i vertici del grafo quindi possiamo public list di stringhe get vertici o get vertici del grafo allora questo metodo cosa può fare e potrà restituire noi abbiamo ovviamente this punto sulla graph punto vertex set e questo mi restituisce già un insieme di stringhe allora il problema qual è che se io uso questo mi restituirà un insieme e quindi i nomi delle porzioni saranno in ordine sparso cioè noi abbiamo fatto fatica per riuscire a estrarle fatica insomma abbiamo avuto un order by per riuscire a estrarle in ordine alfabetico mentre invece il vertex set me lo restituirà in ordine casuale e non serve neanche a questo punto riconvertirlo in lista e rimetterlo in ordine chiaramente quindi quello che converrà a fare magari è ricordarsi cosa che non avevamo fatto ricordarsi questa lista di stringa dei vertici che avevamo semplicemente usato per creare il grafo ma sotto forma di lista l'abbiamo poi dimenticata perché poi i vertici li possiamo solamente ottenere sotto forma di insieme sotto forma di set quindi a questo punto io direi cerchiamo di ricordarci già la lista ordinata dei nomi quindi la andiamo a aggiungere tra i vari parametri private lista di stringhe vertici quindi queste vertici non saranno più una variabile nuova ma diventa una variabile distanza del mio modello che la inizializzo qua e quindi a questo punto ce l'ho già pronta per essere ritornata al model no questo è semplicemente per preservare un ordine che io avevo nel momento della query ma poi quando sbatto i vertici nel grafo quell'ordine rischio di perderlo perché gli stessi quella collection viene memorizzata sotto forma di set fatto questo quindi a questo punto è banale per il controller dopo che ho chiamato la crea grafo andrà a popolare la tendina tendina che torniamo su era un oggetto di tipo combo box io a questo punto ho deciso che ci metterò delle stringhe come tipo di valore e quindi la vado a popolare sotto box porzioni punto get items punto clear cancelliamo le eventuali item che ci fossero prima in questa tendina in modo che poi quando cambio il numero di calorie la tendina viene cancellata e ricostruita non rischiamo di di avere dei valori vecchi per errore e quindi poi box porzioni invece ci aggiungiamo get items ai suoi item delle porzioni items add all la collezione model punto vertici del grafo quindi questa piccola modifica dovrebbe già aver popolato la tendina all'interno dell'interfaccia proviamo a vedere se funziona quindi mettiamo 100 clicco su analisi e questo ecco qua mi metterà i valori all'interno della tendina ok quindi a questo punto possiamo passare finalmente alla vera creazione degli archi allora il punto di mi descrive che cosa quali sono le caratteristiche degli archi gli archi rappresentano il grado di correlazione tra i tipi di porzione e devono essere inseriti nel modo seguente esiste un arco tra due tipi di porzione se almeno un cibo è identificato da un certo food code viene servito con entrambi i tipi di porzione quindi vuol dire che noi abbiamo una porzione cup un'altra porzione diversa e vado a cercare se ci sono dei food che sono serviti questi cibi in entrambi i tipi di porzione si capisce un po' meglio se andiamo a guardare il diagramma dell'entità relazione del database noi abbiamo il nostro portion che sono qua sotto queste portion noi le abbiamo raggruppate per display name però per un determinato display name ci saranno molte portion ID e per ciascuna portion ID ci potranno essere dei food allora io mi sto chiedendo esiste un food date due porzioni due nomi di porzioni due display name e quindi si porteranno dietro tante portion ID ciascuna il food code corrispondente a questa portion ID esiste in comune tra due porzioni diverse detto in modo diverso torniamo alla query se io ho un che ne so una barra e una bottiglia esiste o una lattina esiste almeno un cibo che possa essere servito o come lattina o come bottiglia o come barretta ecco questa è la domanda che ci stiamo facendo quindi stiamo cercando non ci interessa tutta la parte relativa ai condiment e tutto sommato non ci interessa neanche il nome di questo food l'importante è che questo food comune esista poi se esiste se esiste dobbiamo andare a calcolare il peso dell'arco che dobbiamo aggiungere dato come numero distinto di cibi serviti con entrambi i tipi di porzione quindi quanti food diversi hanno questa proprietà di essere presenti in entrambe in entrambe i tipi di porzione ok allora proviamo a tradurre questo ragionamento sotto forma di query noi dobbiamo quindi prendere due porzioni due tipi di cibi diversi e ciascun tipo di porzione diversa e ciascun tipo di porzione corrisponderà a un suo portion id quindi dobbiamo nella nostra select chiamare in causa due volte la tabella portion la prima volta la chiamiamo la p1 la seconda volta la chiamiamo p2 dove noi dobbiamo verificare innanzitutto che p1 punto display name sia quello che vogliamo che non so magari ha venduto cap che era presente molte volte and p2 punto portion display name sia uguale a qualcos'altro adesso andiamo a vedere cosa magari direttamente nella tabella portion insieme a cap cosa ci potrà essere mag ci sarà una mag o un fluid ounces sto cercando qualcosa che abbia qualche probabilità di essere proviamo fluid ounces o bottle proviamo a vedere bottiglie vediamo se troviamo qualcosa insieme se no poi lo cambiamo uguale bottle ok allora innanzitutto quindi noi stiamo ci siamo fissati su due vertici del grafo ci stiamo chiedendo se esista l'arco tra questi due vertici per saperlo devo andare a vedere quale ovviamente questa selezione non mi seleziona una sola riga della tabella più uno mi selezionerà più righe corrispondenti a portion id diversi e io devo andare però a vedere quali sono i food id corrispondenti i food id sempre dalla tabella dallo schema il food code fondamentalmente è la chiave primaria di questa tabella food ma ce l'ho anche qui quindi in pratica non mi serve andare a vedere andare a fare una join con la tabella food no reggiamo bene il testo il testo ci dice guarda esiste un arco se almeno un cibo identificato da food code viene servito con entrambi i tipi di porzione e allora il food code ce l'ho già direttamente nella tabella portion quindi mi basta prendere una portion un'altra portion e confrontare se queste due portion che abbiano portion id diversi possono avere food code uguali e ovviamente avendo bloccato il display name avrò esattamente la coppia che mi serve quindi la condizione non è una join normale che segue delle relazioni tra relazioni ma è semplicemente un vincolo particolare che mi dice il testo mi dice io voglio vedere che i due food code siano uguali p2.foodcode ovviamente se il cibo è nello stesso quindi p1.portion id deve essere invece diverso da p2.portion id e quindi proviamo a vedere cosa salta fuori food pyramid mode portion ho sbagliato reggiamo un errore table food pyramid mode portion p2 ah si ho messo male le virgolette ok in questo caso in questo caso non ce ne sono proviamo a togliere questo commento vediamo facci vedere alcune dunque potrebbe esserci uno slice di qua e uno string cheer stick mi sembra strano che possano avere lo stesso food code 107.030 e 107.030 stranamente così sì allora vediamolo meglio magari selezioniamo solamente alcuni campi possiamo avere portion p1.foodcode p1.portion id e p1.portion display name e la stessa cosa su p2 così abbiamo un numero inferiore di di campi da vedere cosa c'è che non gli piace ah c'è una virgola di troppo ok eccola qua allora qui ci dice ad esempio che noi abbiamo tra bar e clone like crispy bar che sono due portion display name chiaramente diversi la portion id 5 la portion id 6 sono entrambe usate per creare questo food c'è 13 120 100 ecco in questo caso in realtà abbiamo già forse lavorando su questa query ci viene già gratis l'intero insieme di archi del grafo perché se io vado a vedere che thing slice di qua e medium slice sono due display name che corrispondono chiaramente a certe portion id e che possono avere lo stesso food code di qua quindi già già così l'insieme di coppie di portion display name è esattamente quello che mi serve per costruire gli archi del grafo ma mi serve a questo punto modifichiamo possiamo far così anziché ci siamo accorti che è più facile del previsto avere tutti gli archi insieme in una botta sola quindi possiamo evitare di aggiungere questo test e usare quello che chiamavamo all'inizio il metodo 3 di costruzione del grafo cioè avere una query che già mi dia istantaneamente tutti gli archi tutti gli archi però devo riuscire a estrarre il peso allora il peso come lo estraggo il testo mi dice che il peso è dato dal numero distinto di cibi serviti con entrambi i tipi di porzione quindi data una coppia di porzione nel senso di display name sempre perché questa è la nostra caratteristica data una coppia di display name conto il numero di righe di fatto conto il numero di food code diversi corrispondenti quindi la cosa che posso fare a questo punto è raggruppare la mia query per p1.portion display name portion display name virgola p2 quindi per la coppia di portion display name e ovviamente visualizzo solamente queste due informazioni e oltre al count del numero distinto di food code p1.footcode posso mettere più 1 oppure più 2 è indifferente perché ovviamente più tarde abbiamo richiesto che più 1 e più 2 fossero uguali sul campo food code quindi questo è già direttamente il risultato per questa coppia di vertici abbiamo un tipo di food code però ci sono magari ordiniamo questa query per questa colonna ci sono addirittura dei vertici ovviamente questa query è simmetrica nel senso che da cup a fluid ounces ce ne sono 12 e ovviamente da fluid ounces a cup ne avrò anche qua 12 e così via tipi di porzioni diverse e questo numeretto qua sarà il peso del nostro arco peso del nostro arco e ci siamo accorti subito guardando la query che a disposizione di 36 ecco 36 cibi diversi che si possono servire in tazza oppure col cucchiaino questo è diciamo il nostro lavoro per la costruzione degli pesi degli archi dei relativi pesi e quindi possiamo restituire il risultato di questa query magari addomestichiamo un pochino i nomi delle colonne quindi chiamiamolo es name 1 as name 2 e poi questo lo chiamiamo as can conta solo per avere dei nomi un pochino più comodi nelle colonne e questa è la nostra query attenzione che questa query mi restituisce tutti tutte le porzioni anche quelle che non sono presenti nel grafo quindi io prima di tutto dovrò verificare non posso aggiungere tutti questi vertici perché qui ci sono molte coppie qui ci sono 2088 coppie non sono tantissime ma molte di queste coppie saranno relative a porzioni che non sono nel grafo perché ricordiamoci che nel grafo c'è solamente un sotto insieme di vertici quindi questa query è molto comoda perché mi dà tutto ma mi dà più di quanto mi serve quindi devo fare attenzione quando userò tra un attimo i risultati di questa query di controllare che effettivamente stia aggiungendo un arco tra due vertici che esistono effettivamente nel grafo ok però direi che questa è molto comoda per poter restare tutte le informazioni che ho sui grafi vertici di partenza vertici di arrivo peso ammesso che ovviamente i vertici esistano entrambi allora fatto questo importiamo questa query all'interno del DAO creando ovviamente un tipo di oggetto che ci possa contenere queste informazioni ok allora mi prendo nel mio modello un nuovo tipo di oggetto che dovrà contenere due i due nomi dei due vertici e il peso quindi chiamiamolo informazioni sull'arco un nome molto poco significativo ma in questo caso ci ricordiamo cosa vuol dire dove ho però una stringa che chiamiamo vertice 1 una stringa che chiamiamo vertice 2 vertice 2 infine un numero intero che chiamiamo peso questo è esattamente ciò che arriva dalla query e creiamo il solito costruttore e i campi getter perlomeno i getter e setter di questi tracampi non ci serve altro allora questo info arco sarà il risultato del metodo del DAO che dobbiamo creare un metodo del DAO public quindi restituerà una lista di questo oggetto che si chiama informazione sull'arco e qui chiamiamo get archi del grafo tutti archi non abbiamo migliori parametri proprio perché li restituiamo tutti e poi dopo ci dovremo preoccupare di filtrarli allora qui prendiamo la query SQL la inseriamo nel database nel metodo string SQL uguale punto virgola in fondo mettiamo gli spazi dovrebbero essere solite operazioni qui non abbiamo parametri quindi è tutto più semplice e di fatto replichiamo esattamente quello che abbiamo quello che facciamo sempre connection uguale db connect punto get connection prepare statement uguale connection punto prepare partendo da SQL mettiamo il try catch chiudiamo la connessione e finalmente eseguiamo la query result set uguale execute query e costruiamo il nostro risultato come lista di si chiamava info arco result uguale new aprile list dove per tutti gli elementi result set next andrò semplicemente ad aggiungere un nuovo info arco ok all'interno del quale il vertice 1 sarà preso dal result set quindi andiamo a capo magari così più ordinato result set punto get il nome del primo arco il primo arco si chiamava name1 nome1 la colonna poi il nome del secondo arco era 1 nome2 e poi infine il peso get string non guess result punto get int della colonna che si chiama cnt cioè il conteggio questa è la lista non è res punto art ma è result che ovviamente punto add cioè la array list a cui aggiungo oggetti info arco man mano che li estraggo man mano che estraggo nuove righe del database alla fine del ciclo semplicemente ritorno questo result altrimenti ritorno null se ci sono problemi di database allora questo metodo dovrebbe servirmi all'interno del model per creare gli archi del grafo quindi dopo che ho creato i vertici posso ottenere la lista di tutte le info sugli archi info arco archi chiedendo sempre al DAO di eseguire questa query dammi tutti gli archi e poi per ciascun elemento di questa lista possiamo andare a aggiungere un arco purché i vertici ci siano nel grafo quindi bisogna fare attenzione allora il codice sarà semplicemente while swat4 info arco a due punti archi per ogni arco quello che dovrò fare alla fine sarà grafs aggiungere un vertice quindi un vertice pesato quindi c'è già il metodo di grafs che mi fa l'aggiunta dell'arco e anche il peso quindi grafs.add edge width vertices no questo qua add edge semplicemente prende il sorgente destinazione e il peso quindi il grafo poi il vertice di partenza che sarà appunto get vertice 1 il vertice di arrivo che sarà appunto get vertice 2 e il peso che sarà appunto get peso ecco questa è l'aggiunta dell'arco ma non lo devo fare per tutti gli archi solamente quelli e per cui esiste sia il vertice 1 che il vertice 2 all'interno del grafo altrimenti devo ignorarlo e quindi potrò fare un controllo prima se i vertici contengono il vertice 1 quindi this.graph punto vertex set punto contents che cosa appunto vertice 1 quindi se il vertex set del grafo contiene il vertice 1 e idem il vertex set del grafo contiene anche il vertice 2 quindi ricopio questa condizione allora devo chiudere questa tonda qua ma devo chiudere qua sotto allora effettivamente farò questo add edge altrimenti non la farò infatti mi darà capo qui ok io per controllare il fatto che il vertice 1 e il vertice 2 fossero come per il grafo ho preferito prendere il vertex set del grafo e non la lista di vertici perché la lista di vertici è un array list quindi contents di un array list è una complessità odn mentre contents di un vertex set è una complessità od1 perché si basa sulla funzione di hash ok quindi in questo caso dovremmo essere a posto possiamo far sì come avevamo già fatto spesso far sì che questa crea grafo ritorni un messaggio return string.format così possiamo stampare che la creazione del grafo è avvenuta grafo creato con percento di vertici e percento di archi n allora chiusa tonda barra n chiusa virgolette e poi i parametri sono this.graph punto vertex set non a vertex ma vertex set punto size e il secondo parametro chiaramente sarà la size dell'edge set e adesso lo testiamo this.graph punto edge set punto edge set punto size quindi questo messaggio andiamo a modificare il controller semplicemente per stampare questo messaggio string messaggio uguale e quindi txt result append text messaggio ok proviamo questa parte 100 abbiamo detto analisi e lui mi stamperà che il grafo è stato creato con 355 vertici e 474 archi e ovviamente questi vertici saranno messi qua se io metto un numero di calorie molto inferiori avrò probabilmente un grafo con molti meno vertici molti meno archi e quindi anche qua sarà forse anche più facile da testare provo a abbassare 8 qua 5 calorie comincio a continuare a qualche cosa sempre quindi posso anche pensare di fare delle prove con dei grafi più piccoli qui sotto l'uno c'è ancora qualcosa perché ci sono dei tipi di cibi che hanno 0 calorie quelli che vengono magari che ne so una tazza d'acqua o una fetta di nulla probabilmente hanno 0 calorie oppure semplicemente il dato delle calorie non sempre è accurato ok quindi questa completa il il punto c d anzi e dobbiamo semplicemente permettere di eseguire ancora il punto e di questo testo direi che siamo soddisfatti perché abbiamo creato il grafo e possiamo fare un commit anche qui dice ah me l'ho perso allora team commit e aggiungiamo il messaggio che abbiamo creato archi e poi ci rimane semplicemente l'ultimo punto andiamo a leggerlo l'ultimo punto dice permettere all'utente di selezionare un vertice del grafo della tendina tipo di porzione questo l'abbiamo già fatto alla pressione del testo correlate stampare l'elengo di tutti i tipi di porzione direttamente connessi con il tipo di porzione selezionato e il relativo peso direttamente connessi quindi direttamente connessi significa i vertici adiacenti a quello dato con il tipo di porzione selezionato e il relativo peso quindi devo stampare dato il tipo di porzione che è un vertice del grafo chiaramente dovrò stampare tutti i vertici adiacenti e il loro peso relativamente semplice da fare dovrò semplicemente la parte più noiosa costruire un oggetto che contenga la lista che devo passare tra il modello e il controller quindi sarà la porzione adiacente una classe porzione adiacente che dovrà contenere il nome della porzione e il peso private double peso noi sappiamo che il peso è un intero ma una volta che l'abbiamo memorizzato dentro il grafo è diventato un numero reale questo è semplicemente l'oggetto che passeremo tra modello e controller gli facciamo creare il costruttore facciamo creare il getter e sector e siamo a posto quindi vuol dire che al nostro modello questo oggetto si chiama appunto porzione adiacente al nostro modello che è finito è qua aggiungeremo un altro metodo public che restituirà una lista di porzioni adiacenti get adiacenti facciamo così questo metodo che riceverà ovviamente una porzione specificata allora questo è molto semplice perché dato una porzione che sarà un vertice del grafo perché l'abbiamo scelta dalla tendina dobbiamo semplicemente trovare tutti gli adiacenti ma questo lo posso fare con dentro la libreria jgraph-t con tutti i neighbor list of che dato un vertex mi dà una lista di vertici è proprio il metodo che mi serve quindi dal grafo dato il vertice e porzione mi istituisce una una lista di vertici in realtà a me non serve solamente la lista di vertici ma servono anche i pesi quindi dovrò iterare su questa lista per poter ottenere anche i pesi vicini i vicini sono questi e io devo creare invece una lista di porzione adiacente in cui per ciascun vicino devo anche avere il peso ma questo peso lo posso andare a interrogare molto facilmente nel grafo andare a interrogare il grafo quindi io quindi posso definirmi una nuova lista che è il mio risultato di porzione adiacente new array list di questa cosa qui e per ogni vicino string v due punti vicino per ogni vertice vicino vicini chiedo scusa dovrò andare a estrarre anche il peso e lo ottengo semplicemente da io conosco i due vertici cioè il peso dell'arco che collega porzione con v quindi punto get non c'è un get weight no get edge allora scusate su graph this punto get edge weight this punto graph punto get edge weight di un arco che ottengo andando sempre a interrogare il grafo get vertex get edge scusate edge questo qui tra un source e un target vertex quindi come sempre devo fare due passaggi al grafo prima devo dire dammi l'arco tra questo vertice sorgente cioè porzione e il vertice d'arrivo cioè v una volta che ho l'oggetto v una volta che ho l'oggetto di tipo arco vado a estrarre il peso di questo arco e una volta che ho il peso posso aggiungere l'elemento alla lista result punto ad perché ho tutto posso per creare il nuovo oggetto porzione adiacente a cui aggiungerò il nome della porzione cioè il vicino e il peso che ho appena calcolato questo è semplicemente il valore che mi serve e posso ritornarlo al mio controller che a questo punto molto semplicemente alla pressione del tasto porzioni correlate dovrà prendere innanzitutto quale porzione ho selezionato sempre dalla tendina cat value che è il valore correntemente selezionato per tutto verifico che l'utente abbia selezionato qualcosa se porzione uguale null stampo messaggino di errore al punto add append text errore devi selezionare una porzione selezionare una porzione barra n chiuso virgolette chiuso virgola return altrimenti vado avanti e molto semplicemente chiederò al model di ridarmi la lista delle porzioni adiacenti porzioni adiacente perché la lista non ce l'ha ancora questo signore è ancora usata va bene porzione adiacente adiacenti uguale model punto get adiacenti della porzione che ho appena estratto dalla tendina punto virgola e questo semplicemente devo stamparlo quindi for porzione adiacente pa porzione adiacente due punti adiacenti dovrò aggiungere per ciascuna porzione adiacente nel mio risultato il descrizione append text text ok e in cui string punto format e gli metterò il nome della porzione e il il peso associato a capo il nome della porzione pa punto get porzione e l'altro è pa punto get peso ok quindi tutto molto semplice nel senso che il grosso del lavoro lo fa il metodo get neighbor list che mi dà i vertici corrispondenti e poi cerco un vertice dobbiamo prendere il peso questi pesi li mettiamo in una lista la mandiamo al controller il quale li stampa quindi non vorrei cantare vittoria però vediamo se non ci sono sorprese 20 calorie facciamo un graffo piccolino scelgo che ne so lattina e mi dice che quelli correlati con lattina sono bottiglia che avrà due cibi in comune tazza che ha due cibi in comune extra large due cibi in comune e così via ne scelgo un'altra baby carrot non ha nessuno correlato quindi di fatto lui ha un vertice isolato large cap è correlato con cap e con slices con un numero un cibo con peso uno quindi c'è un cibo in comune e così via nemmon juiced collegato solamente con tablespoon con peso uno e così via quindi questo magari bisogna scrivere un messaggio altrimenti tutte queste cose si confondono aggiungere nel controller scusate facciamolo per completezza già che ci siamo prima di stampare questi diacenti mettiamo il titolino txt result punto append text porzioni correlate a due punti porzioni correlate a e la e dunque barra n il cibo si chiama porzione così capiamo cosa sta succedendo quindi lo rilanciamo ne scelgo una porzione correlate a con squash cap ad esempio proviamo a vedere con peso uno verifichiamo solo prendiamo cap giusto per verificare la simmetria ci sono tante cose tra cui ovviamente a con squash che ha peso uno e più tante altre cose con peso diverso e questo al di là del fatto che appunto il peso dell'arco viene rappresentato come double e non come intero ma volendo potremmo tranquillamente convertirlo perché sappiamo che sono numeri interi ma è solo una questione puramente di stampa direi che completa il punto uno dell'esercizio e ci può quindi dare di tutto il diritto di scrivere che abbiamo terminato punto uno ok salvando anche questa nuova classe e quindi siamo a metà dell'esercizio abbiamo completato la prima parte dell'esercizio vi lascio diciamo così questo video fino a questo punto e poi apriamo subito dopo un secondo filmato nel quale proveremo invece anche a risolvere il secondo punto che tanto per dargli un'occhiata si tratta di costruire una procedura ricorsiva che trovi il cammino ottimale secondo certi tipi di criteri ma questo lo vediamo tra un attimo nel secondo video grazie